E' un binario, oltre a quello della tecnologia, un binario importante è quello della ricerca, della sanità, della medicina. Fatemi fare una digressione breve su dove siamo e perché siamo qui. Innanzitutto, questa è un'iniziativa che nasce dal cuore di alcuni amici di Gianroberto Casaleggio e non necessariamente sono del Movimento 5 Stelle. Anzi, io vi chiederei, proprio in forma liberatoria, io per esempio, io non sono grillino, fatemi un applauso, ve lo chiedo veramente. Ma non sono neanche del PDL, non sono del PD, sono e sarò sempre un giornalista. E perché sono venuto qua? Ma è semplice, perché mi interessano questi panel e mi interessano questi confronti e mi interessa il futuro. Punto e a capo. Quindi se voi condividete quest'idea e avete, oltre al cuore, anche un po' di generosità, se aiutate questa associazione, non una fondazione, come ho letto su qualche giornale, che è diverso, è un'associazione no profit, ha i bilanci in chiaro e ha la trasparenza nel cuore e nel portafoglio. In fondo ci sono due banchetti. Uno è il banchetto per aiutare l'associazione per iscriversi, l'altro banchetto è dei libri. E come dice mio figlio Edoardo, che ha dieci anni, i libri aiutano a volare e noi stiamo qui stasera, oggi perché stiamo facendo un grande volo. Allora, vi presento, grazie, Nicola Bedin, CEO del più grande gruppo ospedaliero italiano, stiamo parlando del gruppo Rotelli San Raffaele. Stiamo entrando nel campo un po' minato della sanità, della salute e della medicina. Lui farà un ospicio e poi ci sediamo con il professore Ermanno Leo, che è primario dell'Istituto dei Tumori di Milano. Iniziamo con cosa? Con quello che sta a tutti più cuore, la salute e soprattutto la nostra sanità. Il popolo, questo paese, sta invecchiando. La struttura di chi ci deve curare e guarire è ai passi oppure no? Nicola Bedin, prego. Grazie, buongiorno a tutti. Possiamo partire con le slide. Dunque, il futuro della sanità può dipendere da molti fattori, tra i quali le ristorse economiche che ci sono, che ci saranno e che decideremo da dedicare a questa materia. Può dipendere quindi dalle scelte politiche e da molti altri fattori, ma sicuramente dipenderà dal futuro della medicina. Ci sono alcuni temi di contesto che vanno chiariti immediatamente. Innanzitutto parliamo di salute nel senso inteso da Organizzazione Mondiale della Sanità. Non è semplicemente non avere la malattia, ma è una condizione di benessere fisico, psichico e sociale. È fondamentale. Cosa succederà? Beh, vivremo di più. Questo lo dice Lancet ad aprile, adesso, un numero recentissimo. Vedete, questa è l'aspettativa di vita, la variazione dell'aspettativa di vita alla nascita tra il 2010 e il 2030. Aumenterà, non so se riuscite a leggerlo, per esempio per le donne italiane di quasi 4 anni e lo stesso per gli uomini italiani. Si sposterà più in avanti la nostra vita, la nostra aspettativa di vita. Sono due le certezze che abbiamo, le tasse e la morte. Sulle tasse sappiamo che non possiamo fare niente. Sulla morte ci stiamo attrezzando per allontanarla il più possibile. E vivremo meglio, e vivremo meglio di oggi. Cioè, daremo più anni alla vita e più vita agli anni. È diverso essere un 75enne in stato di salute rispetto ad essere un 75enne malato. E quindi cercheremo di ottenere il disease free survival, cioè l'incorrenza di una malattia rilevante il più tardi possibile. Perché uno può star bene dopo aver avuto un cancro e averlo curato. Meglio ancora però se questo cancro o non succede mai o succede più in là possibile. Cancro o una malattia cardiovascolare e così via. Saremo di più. Anche questo influenzerà il futuro della sanità. Saremo di più. Le Nazioni Unite fanno questa proiezione. Oggi siamo a 7 miliardi e mezzo circa. Nel 2030 saremo più di 8 miliardi e mezzo. In Italia no. In Italia no. Non saremo di più nel 2030 rispetto ad oggi. È previsto che saremo di meno. Questo per l'effetto della natalità. Che non ha tassi di crescita come succedeva in passato. Ma l'Italia sarà un paese molto più vecchio. A destra vedete la popolazione italiana con più di 70 anni. E il grafico si impenna. Questo è un fattore molto rilevante. Tra i fattori che determinano tutta questa evoluzione abbiamo detto c'è la medicina. E qual è la visione futura che ci troviamo davanti in materia di medicina? Una serie di cose meravigliose, secondo me. E entusiasmanti. La terapia genica e cellulare. Le omiche. Vedremo cosa sono. L'imaging. L'ingegneria dei tessuti. La mini-invasività. Gli esoscheletri. I farmaci biologici. I wearable. La terapia genica e cellulare cos'è? E' la sostituzione di geni e cellule difettosi con sani. Questo vuol dire la possibilità non di curare, ma di guarire. Vi faccio vedere un esempio. Questa è una cornea. E' soggetta a delle ustioni. Il paziente è cieco. Oggi vede, grazie a una terapia di cellule staminali, che ha rigenerato il tessuto della cornea. E il risultato è questo. E' straordinario. Un altro esempio. Questo riguarda anche questo. Me ne vanto. Il San Raffaele. Ci sono dei bambini affetti da una patologia terribile. Adaskid. Cioè sono privi di sistema immunitario. Basta una minima infezione. Basta un raffreddore per condannarli alla morte. Vivono pochissimo. Sono chiamati i bubble boy. Perché vivono in una bolla. Sterile. Questa bambina è avvolta da una bolla. Poverina. Perché altrimenti avrebbe una... Il rischio di morte è elevatissimo. Per qualsiasi cosa banale. Per una febbre. Bene. Oggi questa bambina, questi bambini, che sono una patologia molto rara, 15 ogni anno in Europa, possono vivere. Sono definitivamente guariti. Grazie alla prima terapia genica al mondo, che è italiana. è di San Raffaele, è di Fondazione Teleton, con il supporto e il lavoro attivo di GSK Glaxo. E che il futuro sarà questo. Lo dimostra anche il lavoro, che sta crescendo su queste tematiche. Vedete, i trials per la terapia cellulare nel mondo, oggi sono 393 all'anno. Prima, nel ventennio precedente, erano 50 all'anno. La terapia genica, ne facciamo nel mondo, 113 sperimentazioni, prima all'anno 84. È un trend sicuro, fantastico, secondo me. Gli esoscheletri. Sapete, sono delle strutture che possono avvolgere il corpo umano aumentando le capacità fisiche. E ci sono delle scoperte in questo settore e siamo agli albori eccezionali. Se possiamo partire col video, dura pochissimo, ma è straordinario. Ops, ecco. Grazie. Ci arriviamo, eh? Merita davvero. Bisogna andare sopra col cursore. Ecco, grazie. E compare il segno di play. Ok. Questi sono pazienti affetti da quadro pregia. non riescono a muovere gli arti, non riescono a muovere un arto in modo coordinato. È il bello della diretta. Per un evento che parla di tecnologia, fa ridere. dobbiamo passare col cursore sopra all'immagine. Ecco, affetti da quadro pregia. Vedete che non riescono neanche a tenere in mano e a portare alla bocca dei bicchieri eccetera. Guardatele, poverini. È terribile. Ci provano, vogliono farlo. Il loro cervello saprebbe cosa indicare alla mano di fare, ma non riescono a farlo. Guardate, non riescono a afferrare una tazzina, una lattina di Coca-Cola. Terribile. Ed ecco l'edoscheletro che attraverso la lettura di impulsi elettrici del cervello, cioè il paziente, il ragazzo pensa di voler muovere la mano. Guardate cosa riescono a fare. Guardate cosa riescono a fare. Siamo agli albori. Siamo agli albori. Poi il video continua, possiamo andare avanti. Un'altra cosa fondamentale nel futuro della medicina sarà l'imaging, cioè le tecnologie non invasive che ci consentono di avere informazioni fino a ieri e a oggi inedite. Questa è una risonanza magnetica di un cervello. Guardate che immagine straordinaria. Questo è un post-processing dei tessuti connettivi delle aree del cervello. E si riesce a capire quali tessuti connettivi funzionano bene, e sono le aree in verdi, e con le gradazioni cromatiche diverse quelle che funzionano meno. è pazzesco, eccezionale. Questo è un cervello a sinistra sano, poi questo è un cervello danneggiato da un ictus, qui c'è una parte necrotica, cioè morta sostanzialmente, perché non arriva il vaso sanguigno a dirorare la parte del cervello che farebbe muovere la mano destra. Cosa siamo in grado di capire oggi? Che il cervello è un cervello plastico, perché guardate, questo è il cervello sano, quando muove la mano destra, il cervello danneggiato, irrora la parte mai morta, e plasticamente trova altri spazi per irrorare delle aree del cervello che fanno in modo a loro volta di riuscire a muovere quella mano destra. Cioè è incredibile, abbiamo scoperto che il cervello è plastico, si riesce ad evolvere, è eccezionale. Poi ci sono i wearable, i nostri orologi, l'Apple Watch e quant'altro, oggi non sono nulla rispetto a quello che avremo tra pochi anni. Questo è stato da pochissimo approvato dall'FDA, è uno strumento, non è proprio indossabile, ma il concetto è quello, che consente di fare un ECG col proprio telefonino e un semplice tocco con le dita, approvato dall'FDA per monitorare la fibrillazione atriale. Ma si andrà oltre, ma anche tra poco. Guardate, quel cerottino può misurare la saturazione arteriosa dell'ossigeno. e chiaramente sono numeri, quelli del progresso, notevoli. Si prevede che tra il 2015 e il 2019 questo cresca ad un tasso anno medio composto del 30%, vuol dire più che raddoppiare questo mercato in tre anni. E poi c'è tutta la parte mini-invasiva e robotica della chirurgia. Questo è un robot, è una fase iniziale, ma è un robot autonomo. Viene posizionato, in questo caso, sono delle anastomosi del colono. E lui lavora autonomamente, supervisionato dall'uomo, ma fa una sutura da solo. I robot attuali, c'è un video interessante, però non ve lo faccio vedere per non perdere tempo, suturano la buccia di un acino d'uva, per dire la precisione. E alcuni di voi sapranno, l'intervento al cuore, la valvola aortica, ad esempio, vedete lo schermo a sinistra, fino a qualche anno fa, implicava l'apertura dello sterno, una manovra molto cruenta, oggi lo viene fatto con tecniche minivasive totalmente diverse. Anche qui ci si attende a uno sviluppo notevole, risorse messe per creare questi miglioramenti. Poi ci sono le omiche, che è un mondo eccezionale, sono l'insieme di dati biomolecolari estesi, perché sono tantissimi, e personalizzati. Sono quelli che consentono di avere la carta di identità dell'individuo, ma sono così tanti i dati recuperabili, oggi ci stiamo lavorando, non siamo al punto ancora di averli tutti e di poterli utilizzare, che la nostra carta di identità non saranno due foglietti di carta, ma saranno un tomo della Treccani, per intenderci, per ciascuno di noi. E cosa vuol dire? Capire il DNA, lo capiamo già, ma valutare il nostro DNA specifico, la sua struttura, chiamiamolo hardware, consentitemi questi paragoni, l'espressione del DNA, cioè il software, e poi come noi scriviamo tutto questo, come modifichiamo queste cose. E poi c'è un altro elemento, l'uomo è fatto di cellule umane, ma è fatto anche di cellule non umane, anzi, le cellule non umane sono da una a dieci volte più delle cellule umane. Per ogni cellula umana il corpo ne contiene fino a dieci non umane, è incredibile, cioè batteri, funghi, virus, il microbiota, abbiamo una doppia identità biologica e le omi che ci consentiranno di indagare anche questo, queste cellule non umane, non le vediamo perché come dire, non compongono i nostri organi, le nostre braccia, eccetera, però rappresentano per esempio c'è chi dice circa il 2 kg più o meno del nostro corpo, sono cellule non umane e indagheremo anche quelle. E poi l'esposoma, cioè tutti i determinanti ambientali, noi siamo corpi che vivono e interagiscono con l'ambiente, riusciremo a caratterizzare anche l'effetto che tutto questo ha in noi, questo comporrà la nostra enciclopedia tre cani di ognuno di noi. oggi le informazioni che abbiamo sono quelle tradizionali, nel futuro queste informazioni che usiamo oggi, i dati clinici saranno il 10% delle informazioni che useremo per capire l'uomo, il restante 90% sarà dato dalle omiche e sono dati, dati enormi, ognuno di noi si stima avrà un 1100 terabyte di informazioni derivanti dalle omiche rispetto ai 0,4 terabyte dei dati tradizionali, c'è un tema di sicurezza e software, hardware che gestiscono tutto questo. Poi c'è l'ingegneria dei tessuti, sapete che si riesce a riprodurre una trachea e impiantare una trachea di un paziente malato, si estrae diciamo una piccola porzione sana della trachea, su quella vengono coltivate le cellule dello stesso paziente e poi è rimpiantata la trachea. Per i topi è stato ricostruito un cuore, si prende l'involucolo, si decellularizza, si tolgono le cellule malate e si riniettano cellule che vegetano, che come dire vengono coltivate e il cuore viene rimesso nel topo. Straordinario. La crescita anche di questo ambito di attività è prevista chiaramente significativa. ci sono poi i farmaci biologici cioè non chimici che riproducono molecole come quelle del nostro organismo e sono i fattori di crescita l'insulina e quant'altro i anticorpi monocronali e le interleuchine. Anche qui è previsto uno sviluppo importante sono il 20% dei farmaci in commercio ma il 50% di quelli in sviluppo. Costano molto, costano molto. Torniamo alla sanità. Dov'è l'Italia oggi? Il Servizio Sanitario Nazionale Italiano costa poco. È un falso mito quello che dire che costa tanto. Questo è il rapporto al PIL. Se ci confrontiamo con la Germania e con la Francia l'Italia spende il 6,8% per la sanità rispetto al PIL. È molto meno della Francia, è molto meno della Germania. Io mi confronterei con loro non con altri paesi. Spende anche molto meno su base pro capite. La Germania spende quasi il doppio di noi. forse perché sanno che è un settore strategico per il Paese, forse perché lo ritengono fondamentale. La spesa sanitaria pubblica dell'Italia, tra le altre cose, in questi anni, sono fonti dell'Ocse, è stata in calo. Nello stesso periodo la spesa pubblica sanitaria della Germania è cresciuta del 32%. Secondo me siamo noi che sbagliamo, non loro. È quella della Francia del 12,4%. e questo in un contesto in cui l'Italia ha la popolazione più vecchia e quindi per la quale le cure sono più costose. È assurdo. Quindi chiedersi se siamo alla fine del Servizio Sanitario Nazionale, se siamo alla fine dell'esistenza in Italia del diritto alla salute, una conquista sociale straordinaria. Non dappertutto nel mondo esiste il diritto alla salute. Negli Stati Uniti la salute non è tanto un diritto, è un bene. Da noi deve essere mantenersi un diritto. grazie. La sanità deve essere universale, gratuita, generale per tutti. È una conquista sociale spaventosa. Ma il sistema scricchiola, non lo dico io perché sembrerei manifestare un giudizio soggettivo. lo dice l'Istat, il Censis, la Corte dei Conti, c'è una pressione crescente sulle spese dirette sia per il pagamento del ticket o per il ricorso alla sanità privata, si determina un inevitabile meccanismo di penalizzazione e di riduzione delle possibilità di cura, soprattutto per coloro che dispongono di minori risorse, aumento della spesa privata, creazione di nuove disparità e ancora diseguaglianze, si alimentano nuovi squilibri. Il sistema così collassa e collassa il diritto alla salute, collassa la nostra civiltà. Dobbiamo lavorare perché questo venga evitato e si può fare e si può fare. Secondo me bisogna investire in formazione, come è già stato detto, bisogna investire in formazione. Questi cambiamenti devono essere affrontati non rincorrendo. Oggi siamo già alla rincorsa purtroppo ma cercando di recuperare terreno non devono diminuire le risorse perché avete visto il livello di spesa attuale da qualche parte vanno trovate ma non devono diminuire le risorse per il servizio sanitario nazionale devono aumentare e io non credo che i soldi non si possano trovare ci devono essere delle priorità e la sanità secondo me la salute è fondamentale. Bisogna spendere meglio non meno ci sono situazioni è inutile nasconderci dietro un dito di sprechi notevoli ci sono situazioni di alcuni ospedali pubblici che vengono agli onori della cronaca ci sono sprechi lo spreco non è utile per nessuno per definizione sono soldi buttati via quei soldi vanno recuperati spesi meglio e rimessi nel sistema succederà succederà che gli ospedali si alleggeriranno cosa intendo dire si farà si starà bene più a lungo le cure staranno più brevi perché si curerà meglio eccetera quindi è inevitabile che l'ospedale come lo conosciamo oggi cambierà ci sarà un'assistenza da dare a chi sarà autosufficiente o non autosufficiente anziano quindi si sposta un po' il paradigma ci sarà l'e-health cioè l'assistenza a domicilio sia telematica che non telematica bisogna diffondere una cultura del sociale lo status symbol non deve essere possedere il Rolex deve essere potendolo solo permettere fare del bene e dare soldi per la ricerca chi può permetterselo economicamente se facesse una riflessione personale potrebbe modificare le sorti del nostro sistema negli Stati Uniti ci sono molti che donano perché per loro è anche un motivo di orgoglio per noi no perché devo dare dei soldi a questo o a quell'altro bisogna diffondere la cultura del sociale massimi sistemi uno micro voi non lo saprete ma nella sanità per gli ospedali comprare le garze le siringhe i prodotti medicali anche i farmaci si paga l'IVA come se fossimo un consumatore finale un 22% per comprare una garza è un soldo che non riguarda il valore di ciò che compriamo gli ospedali pagano l'IVA per gli ospedali l'IVA non è deducibile è un costo puro assurdo per il formaggio l'IVA è il 4% la garza è il 22% e poi se non vogliamo che il sistema esploda perché aumentando la popolazione anziana aumenteranno i costi è inevitabile le tecnologie poi costano bisogna fare prevenzione lavorare con lungimiranza investire oggi su prevenzione consente di mantenere il sistema perché in questo modo si sposta in avanti il momento in cui il tema della salute di una persona diventerà un costo vero prevenendosi sposti in avanti la lancetta ed è così che si può salvare il sistema investire in ricerca di base si investono troppi pochi soldi nella ricerca di base che è la ricerca fondamentale un paese se investe in ricerca di base crea conoscenza diffonde competenza e questo è un valore ed è lo Stato che deve farlo non aspettiamoci che lo facciano altri in Italia concludo mancano i medici non so se lo sapete mancano i medici nei prossimi anni mancheranno i medici non riusciremo ad assumere persone medici ce ne sono troppi pochi perché perché c'è un numero chiuso all'università di medicina troppo basso quindi si presentano per cento posti alla facoltà di medicina in tremila e se ne prendono cento e io dico cosa ci vuole forse aveva senso negli anni settanta ottanta quando gli iscritti a medicina erano più di quelli che servivano per il servizio sanitario nazionale ma oggi togliamo il numero chiuso nelle facoltà di medicina o ampliamo il numero rimaniamo senza medici e poi ultimo la tecnologia fantastico abbiamo visto cose che mi fanno brillare gli occhi però ciò che non passerà mai di moda ciò che è andato bene nel passato nel presente e nel futuro è il rapporto umano con le persone che resta tutto centrale secondo me secondo me possiamo avere questo futuro e anzi dobbiamo averlo grazie a tutti grazie a Nicola Bedin sediti con noi Nicola sei stato lungo ma è stato estremamente interessante l'altro giorno ho incontrato una persona che credo che abbia quasi tra gli 80 e i 90 anni non me ne voglia se sbaglio si chiama Silvio Garattini ed è il numero uno dell'istituto Mario Negri per prepararmi a questo incontro io mi occupo anche televisivamente più di morti che di vivi purtroppo qualcuno di voi magari lo sa però per prepararmi a questo incontro sono andato a cercarmi delle dichiarazioni delle battute degli approfondimenti di Garattini che è una persona estremamente seria io ho trovato questa frase con la quale volevo aprire il vostro confronto Ermanno lui dice questa idea Silvio Garattini è la direttore dell'istituto di ricerca farmacologica Mario Negri di Milano questa idea di curare i sani è solo l'ultimo atto di una strategia che inizialmente è partita allargando artificialmente la platea dei malati non è un caso che i valori soglia considerati un tempo normali per la glicemia e colesterolo o la pressione elettorosa siano stati progressivamente abbassati per ognuno di questi aggiustamenti è cresciuto a dismisura il numero di persone cui prescrivere medicinali poi tu vai a fare ancora delle ricerche e scopri che praticamente negli ultimi 50 anni il numero di medicine nuove immesse sul mercato in realtà è pari al 2,7% noi troviamo medicine nuove ma sono copioni di medicine che hanno più età dei miei nonni messi insieme Ermanno buongiorno grazie a tutti e non vorrei far pentire per quello che per quello che dirò e che sento di dire in 40 anni di questo lavoro nato da studente all'istituto dei tumori quindi purtroppo ho mangiato cancro per 40 anni dove tutte le incomiabili gli incomiabili successi tecnologici che a cui riconosco i meriti e tutto io sono qui a fare quasi un mea colpa come oncologo ma se dovessimo paragonare e confrontare ciò che ho sentito oggi che di incomiabili tecnologico e di tutto a quello che è avvenuto nell'oncologia io sono profondamente deluso e rendo omaggio a chi non ce l'ha fatta e chi in questo momento che sto parlando non ce la sta facendo a me interessa un dato poi tutti i giochi statistici sappiamo che si possono manipolare e fare in Italia ci sono ogni anno cento quasi centottantamila morti di cancro se questo è il segno di un successo io vado ai giardini pubblici io devo dire e rendere sono emozionato per questa platea perché non ho questo grande occasioni di parlare perché chi mi conosce spesso non mi invita perché come diceva se possiamo mandare la prima che ho trovato questa frase di Platone che credo si addica a tante cose e questa è una sacrosanta verità che non è detta oggi ma è detta nella storia cioè aver paura della luce sul problema oncologia noi dobbiamo rendere veramente omaggio e grazie agli italiani parlo dei nostri italiani perché si sono avvicinati a quella cultura della prevenzione della diagnosi precoce più che prevenzione perché anche qui si fa una confusione micidiale guardate che noi stiamo riuscendo anche a usare in maniera non dovuta in maniera così a guarire le persone di cancro perché li prendiamo in tempo e con le mani possibilmente esperte riusciamo a guarirli veramente forse anche senza l'ausilio dei farmaci che ovviamente servono per quel po' che servono nei casi che purtroppo arrivano alla nostra attenzione e alle nostre cure il timore mio e me ne assumo totalmente la responsabilità è che il cancro sia diventato in questi decenni un affare insieme alle guerre e vorrei pregare tutti il mondo della cultura della medicina della politica di non scherzare su chi perde un figlio o sul figlio che perde un padre di una società che rischia di avere anche gravi danni quando vengono soprattutto colpiti gente nella piena attività anche sociale tutto come diceva giustamente dottor Bedin la popolazione scende le nascite diminuiscono dobbiamo anche stare attenti non è questo il motivo ma è biologico a quello di dire perché noi da un certo punto vi dico una cosa che diceva mio padre quando io arrivai a Milano definito da qualche imbecille terrone quindi ed è quello che abbiamo fatto mi laureai proprio all'istituto dei tumori facendo mi disse ma perché lui insegnava poverino oggi spero che mi guardi dall'assumo vuoi fare abbracciare l'oncologia con quello che dicono parliamo degli anni settanta fra pochi anni debellano il cancro e tu resti disoccupato o perlomeno specializzato in una cosa che sicuramente non è il futuro non è niente vabbè andai avanti e ci ho creduto in queste cose ma se io avessi pensato quarant'anni fa che l'Italia aveva e contava centottantamila morti in anno di cancro ma vi sembra un successo io sono stato intervistato anche lì sciaguratamente mi hanno invitato dove hanno detto che quest'anno è la prima volta che ci sono mille morti in meno voi immaginate è chiaro siamo felici anche di due morti in meno il problema è andare a vedere che cosa ha creato questo miglioramento il miglioramento voi pensate io misi appunto nel millenovecentonovanta quindi ventisette anni fa credo se non sbaglio che non l'intervento che non metteva più automaticamente il famoso sacchettino agli operati di tumore arretto cosa che era ignobile sia da un punto di vista di dignità personale da un punto di vista di ricaduta sociale con invalidità nettamente quasi più esistenti e queste cose qui tutte queste cose sono state messe a punto con persone che venivano per fortuna da noi con malattie operabili bene il dramma signori cari io sono dalla parte vostra guai pensare che purtroppo lo devo dire ma non con critica il cancro è una malattia che è stata trovata nelle mummie egizie la tecnologia sicuramente ha fatto dei passi da giganti nell'ortopedia nell'oculistica ma le cellule tumorali se ne fregano del pezzo di ferro il problema è che non conosciamo i meccanismi e non diciamo spesso alla gente la verità la verità è questa ve la dico in maniera semplice perché io ho amato il Manzoni quando ha creato la zecca Carbugli perché una delle principali attività in Italia è parlare difficile per non farsi capire e così e allora noi dobbiamo parlare dobbiamo parlare al cuore degli italiani a chi acceda e dire le cose come stanno quindi pensate il tumore del colon retto di cui sciaguratamente mi occupo è l'unico che potrebbe scomparire dalla faccia della terra se ne va male ogni anno 50.000 persone con 25.000 morti in anno invece di andare a dire cose strane non parlo di noi ovviamente ma di quello che quotidianamente leggo e mi diverto facessero veramente una conoscopia tutti gli italiani da 45 50 anni in poi questa malattia di cui è l'unica che conosciamo i precursori tumorali con un esame che renderebbe me come continuo a dire disoccupato perché non ci sarebbe più la malattia noi avremmo si andrebbero ad asportare reforme ancora benigne e evitare la trasformazione in maligna ed evitare di ricorrere a quello che sono e che è il potere delle multinazionali guardate che io lo dico senza vergogna ma queste persone hanno ormai gestiscono il problema farmaco fregandosene che i morti non sono assolutamente diminuiti anzi perché il problema è che tutti sanno che la soluzione del cancro non sarà legata alla chemioterapia invece non era a cambiare completamente il registro perché quindi ti interrompo per dare anche alla nostra platea due dati che sono interessanti di quella che viene chiamata impropriamente big pharma cioè qui praticamente abbiamo 600 miliardi di dollari come a livello complessivo di vendite globali delle prime 50 compagnie farmaceutiche nel 2013 questo equivale per avere un'idea della massa di denaro all'aggregato del PIL di 82 paesi quasi praticamente la metà del mondo le vendite delle prime 5 compagnie farmaceutiche sono state pari a 205 miliardi di dollari pari al PIL degli ultimi 55 paesi del mondo e quindi il dramma è questo che bisogna avere il coraggio io sono scandalizzato ma sapete quante società medico-scientifiche esistono in Italia 800 ma sono tutti scienziati è una cosa folle diceva un mio amico di cui non posso dirvi ovviamente il cognome che non siamo preoccupati della fuga dei cervelli all'estero ma degli imbecilli che restano qua cioè è una cosa è una cosa questa abbastanza allucinante cioè mi scrive un mio amico che è stato pochi giorni fa a un congresso importante a Washington dove io credo che l'America abbia delle sue responsabilità per altre cose ma su questa roba devo dire tanto di cappello dove prima di ogni relazione al congresso soprattutto la parte medica che utilizza i farmaci sono obbligati a rendere in chiaro le sovvenzioni che ricevono dalle case farmaceutiche io come direttore della chirurgia un giorno quasi per sfida anche perché hai capito il discorso del pubblico è che non ha la stessa percorribilità e autonomia che ha il privato io credo che solo oltretutto io credo che il privato basta demonizzarlo quando il presidente del consiglio Gentiloni sta male non va nell'ospedale pubblico va al gemelli che è un ospedale tanto di cappello privato ma addirittura di proprietà di un altro stato quindi quando lui si prende il diritto di fare quello che vuole dobbiamo fare tutti i cittadini quindi questa parità è importante nella libera scelta e anzi io credo che la competizione sia fondamentale mi stavo dicendo che io per sfida quasi per disperazione scrissi una mail ai miei collaboratori e all'amministrazione in cui dicevo che da adesso in poi i medici non devono andare a più di due congressi l'anno scegliendo i migliori successe un finimondo perché voi dovete sapere che le multinazionali assoldano soprattutto la parte medica particolare che utilizza i loro farmaci per cui li devono mandare in giro a fare da sponsor ai risultati spesso manipolati perché se noi dovessimo sommare guardate che io mi sono divertito in questi anni oltre che lavorare spero a sommare tutte le notizie giornalistiche e infatti scoperto questo scoperto quello alla fine dovremmo essere in credito con la malattia ma allora vi dite perché muoviono 180 mila persone l'anno se voi avete scoperto il rimedio cioè c'è qualche cosa che non va una società seria questo vale in politica in economia ma soprattutto sulla salute che è un bene come diceva giustamente dottor Bedin è fondamentale senza la salute è un par di scarpe nuove diceva Manfredi dove vai? si pone degli obiettivi a prova dei progetti ma dopo due tre anni chiama il progettista chiamiamolo così il geometra della scienza il cosiddetto scienziato e gli dice dove sei arrivato se il progetto ha una prospettiva io te lo foraggio mille volte se non porta da nessuna parte ma è solo frutto e mezzo perché tu ti appossa acquisire un posto socialmente utile sulla salute se non lo accetto non te ne faccio una colpa ci hai provato però basta cambiamo registro ci sono troppi progetti finalizzati al mantenimento di un posto di lavoro se questo è il gioco me lo dite e non facciamo andare i famosi ricercatori sui tetti a piangere perché se si blocca la loro ricerca la gente muore il problema è che ricerca stai facendo manca il sistema di controllo per dire la ricerca è fondamentale ma mi dovete dire dove state andando Ermanno proviamo a confrontarci no no ma non ti voglio ti ascolteremo credo per molto per molto tempo i tempi però della nostra agenda di oggi sono un po' stretti volevo confrontare questa diciamo una denuncia di un medico che da 40 anni è impegnato in oncologia all'istituto dei tumori noi abbiamo perso non è facile dirlo non è facile dirlo parlando in prima persona come si può fare una sintesi tra la denuncia del professore Emanueleo e questi dati che tu hai dato di speranza e di di prospettiva ma più che denuncia è un'amarezza non vorrei che la denuncia qui beh dunque innanzitutto c'è a dire una cosa che se ci sono delle big pharma che producono questi farmaci hanno questi fatturati ci sono anche dei medici che li comprano e li prescrivono e quindi gli attori non sono le big pharma e poi c'è da dire che hai citato il dato del fatturato 600 miliardi di dollari le big pharma sono oggi il principale investitore in ricerca e sviluppo volenti o nolenti sono i principali investitori in ricerca e sviluppo nel 2016 hanno investito me lo sono insegnato 160 miliardi di dollari l'anno prima 141 miliardi di dollari quindi senza fare giudizio di merito su questa situazione però sono istituzioni che investono più di tutte in ricerca e sviluppo può voler dire che investe troppo poco lo Stato ad esempio e sono un po' più ottimista del dottor Leo pur condividendone alcune riflessioni quanto ho detto io condurrà non alla medicina personalizzata chi mi dice che il futuro sarà la medicina personalizzata mi fa arrabbiare perché io dico no caro mio la medicina personalizzata tu la devi fare oggi perché caspita stai curando quello specifico paziente e lo devi curare diversamente da un'altra persona perché è lui ai davanti ma sarà la medicina di precisione tutte quelle informazioni che ricaveremo dalle omiche ad esempio ci sapranno ci dovrebbero saper dire se in effetti quello specifico farmaco che può andare bene per un specifico paziente potrebbe non andare bene o addirittura fare del male per quell'altro un po' di informazioni potremmo ricavarle la seconda cosa che io vedo è che per mettere le spalle al muro questa situazione si deve creare il concetto di pay by result cioè io il medicinale lo pago se ha efficacia no per consumarlo oggi lo paghiamo per prescriverlo no si deve pagare per efficacia per risultato questo secondo me è fondamentale questo concetto più la medicina non personalizzata che ci deve già essere ma di precisione possono in parte mitigare quantomeno io sono ottimista io se potessi condizionare le cose cercherò di fare in modo di condizionarle in questo modo guardate che guardate che noi siamo salvi come generazione per due persone Fleming che scopre la penicidina perché tanti nostri genitori sono morti per una banale polmonite e non l'ha fatto con i soldi della della big pharma o delle industrie l'ha fatto col cervello noi l'altro grande personaggio della storia è Albert Sebbin altrimenti molti di noi venivano qui se venivano con le stampelle o con la sedia a rotelle e questi l'han fatto senza il famoso 4-5-5 che oggi dilaga approfittando di una generosità degli italiani che danno soldi e non si è mai capito dove vanno a finire perché non c'è un resoconto cioè io vi dico che sulla medicina personalizzata sono d'accordo ma in Italia San Marino oltre 400.000 persone il cancro continuiamo a dire noi lo scambiamo per una malattia sono mille malattie almeno una diversa dall'altra che si comportano addirittura in maniera diversa quando alla nostra osservazione sembrano uguali da un punto di vista biologico vi dico un episodio poi me ne vado e non mi vedrete più per tutta la vita allora io noi siamo chirurghi attenzione che in Italia c'è una nuova professione mi capita un bando di ricerca che mandano a tutti per ricercatori riservato a ricercatori che sono biologi virgola scienziati io mi sono chiesto non esiste la laurea in scienziologia non esiste l'ordine degli scienziati vedete come cavolo si fa ad essere soprannominati e denominati scienziati ma veramente torna il discorso che non sono quelli scappati ma sono questi quattro pirla rimasti ma adesso abbiamo creato abbiamo creato una nuova professione che non è codificata da nessuna parte che si chiama lo scienziato e vabbè io preferisco essere codificato il cretino però la verità cerco di dirla in maniera onesta e leale queste storie qui devono un attimo essere riviste andare a vedere i resoconti a vedere le cose io sono allora vi stavo dicendo nella nostra noi siamo come clinici oncologi l'unica nostra professione è di osservare l'andamento essendo una malattia poco conosciuta e qui vorrei introdurre un tema attenzione più uno ne cura più ha una visione che si può avvicinare alla grande giungla dei cancri oggi scopriamo non lo dico perché voglio lavorare solo io che non ce la faccio più ed è pesante e rischioso quello che dico ma c'è gente che il cancro l'ha scambiato per un segno zodiacale che regola la giornata il cancro ci regola tutta la vita io l'ho definita non una malattia ma un viaggio perché non ci si stacca mai dai controlli dalla continua eh continuo contatto mettendo individuiamo due gruppi di persone ammalate che si la cui malattia si comportava in maniera diametralmente opposta facemmo individuare non certo noi perché siamo dei manovali da un gruppo che non so come fu come mai cadde nella mia trappola e individuò una proteina che era presente dove gli ammalati andavano male rispetto a quelli apparentemente uguali che invece ci andavano bene ci facemmo costruire dico la parola costruire da un'azienda che poi è sparita questo vaccino contro quel tipo di proteina fummo autorizzati perché io non faccio cose nei sottoscala ma tutto ufficialmente dai comitati etici qui si abusa in Italia l'altra parola che si abusa oltre scienziato è etico sono tutti etici ne succedono di tutti i colori però facemmo fare questo vaccino ci fummo autorizzati a utilizzarlo per quattordici malati perché avevano caratteristiche estremamente ristrette per valutare i risultati non furono deludenti anzi voi sapete che dopo quello lì se voi digitate su google visto che qua siete super tecnologici rispetto a me che poi quello signore mi deve dire come fa il mano dobbiamo chiudere perché se no ci bacchettano si è chiusa ogni risposta perché il timore qual era che se per caso questa iniziativa poteva dare qualche segnale positivo poteva sostituire invece quei farmaci dove devo dire che l'India è stata l'unica nazione che ha mandato a quel paese la Novartis dove mi ha detto che il suo che il suo farmaco il brevetto se lo era scaduto il brevetto in sanità è immorale perché è un bene dell'umanità grazie a Ermanno Leo grazie a Nicola Bedin vi accompagno grazie a tutti grazie a tutti